Reati tecnologici a Cagliari indaga sempre la polizia postale, siamo con il dirigente Francesco Greco e c'è un faro rosso sempre acceso sui minori. Sì, sui minori perché abbiamo visto che rimane sempre molto alta l'incidenza di diffusione di video e di foto di natura pornografica tra i minori. Soprattutto questo avviene tra i minori 13, 14, 15 anni, quindi parliamo di scuole medie, di prime scuole superiori. Molti minori non si rendono conto e condividono dei video, specialmente con i sistemi di messaggistico ormai più in voga, sono quelli Whatsapp e Instagram, condividono dei video di natura pornografica non rendendosi conto che si tratta di un reato, di un reato molto grave. Purtroppo stiamo registrando molti casi dove noi dobbiamo purtroppo mai intervenire. Quindi dovete denunciare comunque dei minori? Per forza, anche se hanno compiuto oltre 14 anni sono assolutamente imputabili penalmente. Se ne hanno di meno comunque la segnalazione alla procura dei minori dobbiamo farlo. Solitamente come fanno questi minori ad avere dei video a fondo sessuale? Beh, generalmente li scaricano dalla rete, poi qualcuno li scarica e poi li condivide sui gruppi, magari solo per scherzo, senza rendersi conto appunto della gravità del fatto. Abbiamo trovato video anche di minori, anche piccoli, cioè di bambini molto cruenti, però i minori non si rendono conto probabilmente di quello che fanno. Oltre che questo c'è comunque sempre la diffusione del cosiddetto sexting, cioè della diffusione di video proprio di minori, di compagnetti magari di classe che fanno dei video e poi si ritrovano sulla rete, condivisi nei social, naturalmente con grosse conseguenze per le vittime, gravi conseguenze per le vittime. Gravi conseguenze per le vittime, di chi è la colpa? Delle famiglie che controllano poco? Sicuramente noi diciamo sempre a tutti i genitori di stare ben attenti e controllare quello che i figli fanno col telefonino, perché purtroppo abbiamo notato che moltissimi genitori sottovalutano i pericoli che ci sono con l'uso del telefonino. Non è soltanto per giocare o mandarsi dei normali messaggi tra gli amici, ma purtroppo abbiamo visto che si commettono spesso molti reati e quindi le insidie per i minori sono tante. Quando voi trovate situazioni simili, quali sono le, tra virgolette, scuse da parte dei ragazzini o delle ragazzine? Normalmente è quello che non si rendono conto, pensavo di fare uno scherzo, non credevo, non sapevo, ma non l'ho fatto così, cioè molto spesso dimostrano di non conoscere, di non capire quello che fanno e la gravità delle loro azioni. In questo caso quali sono le conseguenze, dal punto di vista penale? Le conseguenze sono pesanti perché ricevono delle denunce, naturalmente a parte il fatto che possono ricevere le nostre visite a casa, perché noi andiamo a fare le perquisizioni per andare a accertare quanto è emersa la nostra attività di indagine, ma a parte quello naturalmente le conseguenze sono le denunce penali per loro e poi naturalmente tutti i problemi per i genitori, anche di natura civile. Grazie 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 Grazie